Ciao ragazzi, buon pomeriggio! Primo o poi, ve lo prometto, farò una live, prima o poi, appena riesco, devo avere più tempo per fare una live, così leggo i vostri commenti, vi rispondo in diretta. Intanto faccio questo video e lo caricherò a breve, perché adesso, mentre lo sto registrando, sono le 13.41, quindi ora che lo carico, dopo le 14.00, ok? Ok? Allora, breve consiglio, io sul mio blog, Mimmo Nazionale, ho detto che, qualcuno mi ha chiesto giustamente, ma Mimmo lo vedi il 59 a Milano? Io ho risposto, guardate ragazzi, io il 59 non ce l'ho, però sto giocando, quello che vedete voi anche nei consigli, Milano 12.59, quindi chi vuole giocare l'ambo 12.59 a Milano, che lo giocasse per ambo ambetto. E ho risposto poi sotto, io vedo in uscita, perché tanti conteggi mi portano questi due ritardatari centenari, il 61 a Bari e il 46 a Milano, perché Milano ha più di un centenario ritardatario. Quindi, occhio alla previsione del giornale, di lotto mio di lunedì, stasera è il secondo colpo, e c'è proprio all'interno, Milano-Venezia, all'interno come abbinamento c'è il 46, state attenti, ok? E poi, ho il 61 a Bari, che però vedete anche negli abbinamenti della previsione su YouTube e Instagram, e anche sul mio blog. Occhio, perché il 61 a Bari ce l'ho in abbinamento, come vedete dal video, col 64. 64 ambata forte a Bari, occhio al 64 a Bari, come ambata semplice, e prima e quarta posizione. Quella previsione lì col 64, negli abbinamenti c'è proprio il 61, occhio, occhio, occhio. Ma anche nelle previsioni postate nel video, se andate a vedere, c'è proprio anche l'ambo a Milano, c'è una quartina a Milano col capogioco 13, tre ambi col 13 e la quartina riunita. Occhio, perché in abbinamento al 13 di Milano, sul video di Instagram, YouTube e scritto in prima pagina nel mio blog Mimo Nazionale, c'è proprio l'ambo 13, 46 a Milano. Detto ciò, erano solo dei consigli che volevo darvi. Mi raccomando, occhio alla mia previsione di lotto mio di lunedì, perché c'è un bellissimo Milano-Venezia, dove in abbinamento alla terzina c'è proprio il 46. Ragazzi, 46 a Milano e il 61 a Bari, per me, per me, per i miei conteggi, sono in uscita, o tutte e due insieme, o prima uno e poi l'altro, ok? Sul 59, mi dispiace, non ho riferimenti, è la quarta-quinta volta che esce a Napoli il 59, la ruota gemella, vedete un po' voi. Io a Milano vi dico, ho 12 e 59, ok? Ok? Detto ciò, un bacio a tutti, vi auguro un buon giovedì vincente e speriamo di sentirci stasera barra domani. Ciao!